Ma dove mi trovo? Dunque tu sei Lucio, il celebre progettista di bagni. Voglio che tu costruisca un sontuoso bagno privato in quest'area interna. Certamente, imperatore. Mi ha te da fare. Non mi viene in mente nulla. Ma si può sapere che razza di posto è questa? Ma questa civiltà è veramente evoluta. Se mettessi in pratica queste idee, tutti gli abitanti di Roma che cercano la novità ne sarebbero sicuramente soddisfatti. Il solo pensiero mi addolora terribilmente. Forse questo posto al vertice della tecnica si è già espanso più di quanto Roma abbia mai fatto. Le può provare tutte? Signor assistente, quindi è già arrivato? Una corona! Ma questo vecchio è... è il loro monarca! Ma... ma cosa? Stavolta sembra diverso dal solito. Tieni, se vieni in un bagno pubblico giapponese devi assolutamente berlo. Voglio provare un'altra volta. Stavolta sembra pareti dasi. A un'altra volta controls le vengen